direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza Mastai in Roma questa è l'estrazione di Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del Super Enalotto. Prima di procedere con l'estrazione vi ricordiamo ancora Super Natale di Super Enalotto Superstar. Solo il 27, 29 e 31 dicembre in palio 200 premi garantiti da 20.000 euro ciascuno per ogni estrazione. Potete partecipare convalidando una giocata Super Enalotto con Superstar valida per questa iniziativa speciale. Mancano ancora pochi giorni, conservate le ricevute con i codici alfanumerici. Ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi giovedì 22 dicembre. 332.6282 euro, il più alto mai raggiunto nella storia del Super Enalotto. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo real via l'estrazione del concorso numero 153. Inizia il mescolamento automatico delle sfere. Stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. È in arrivo il primo numero. Il primo numero estratto è il numero 34. Siamo al secondo numero e con Super Enalotto si inizia già a vincere. il secondo numero estratto è il numero 9. Il terzo numero sta arrivando. Il terzo numero estratto è il numero 39. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto è il numero 25. adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 64. È il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 54. Dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più uno. Il numero jolly di questa sera è il numero 87. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly. 34, 9, 39, 25, 64, 54. Numero jolly 87. Ed ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. Procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite su prenda l'8 fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. Pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 22. Ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 153 con la sestina vincente in ordine crescente. 9, 25, 34, 39, 54, 64. Numero jolly 87. Numero superstar 22. L'estrazione di oggi giovedì 22 dicembre termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate. Ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 332 milioni di euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 153. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del Super Enalotto assegna 723.055 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 332 milioni di euro. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di Super Enalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 333 milioni 700 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. I 5 sono 9 e vincono 35.737 euro ciascuno. I 4 sono 1.072 e vincono 304 euro ciascuno. I 3 sono 39.280 e vincono 25 euro ciascuno. I 2 sono 590.431 e vincono 5 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 363.274 vincite immediate winbox. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 7 e vincono 30.481 euro ciascuno. I 3 stella sono 268 e vincono 2.508 euro ciascuno. 100 euro vanno invece 4.383 due stella. 10 euro e 27.221 uno stella e 5 euro e 60.384 zero stella. Inoltre 187 vincite da 50 euro ciascuna e 28.153 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate le combinazioni non vincenti. Vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Suprenalotto. L'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiori informazioni consultate il sito suprenalotto.it. Vi ringrazio per essere stati con noi. Suprenalotto vi dà appuntamento a sabato 24 dicembre. Giocheremo per un jackpot di 333.700.000 euro. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.